Ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe, coordinatore di Milan Insight e sono qui per dirvi che la nostra bellissima agenzia stampa apre le porte a nuove risorse, siamo qui alla ricerca di nuova gente da inserire nel team, nella famiglia di Milan Insight e cerchiamo gente che abbia voglia, che sappia a cui piaccia scrivere articoli piaccia e voglia fare delle grafiche, editare video, gestire pagine social, gestire live e per chi risiede a Milano e dintorni, per chi volesse diventare un nostro inviato speciale ci iscrivesse perché lo manderemo agli aeroporti, a Milan e quant'altro quindi non esitate, contattateci nei direct, nelle pagine private, su tutti i social perché siamo pronti a rispondervi vi aspettiamo ragazzi, sempre Forza Milan